Il 10 febbraio scorso la pandemia non è ancora esplosa e l'esimio professor Galli commenta così la minaccia del Covid-19. La malattia da noi difficilmente potrà rispondersi e che l'esimità del numero di casi riscontrati fino adesso e la modalità con cui si sono manifestati in persone che si sono infettate poco prima di partire da Wuhan ci dà la dimensione del contenimento complessivo del problema. Ma è clamoroso, anche il direttore del sacco è stato messo nel sacco dall'infido virus. La malattia da noi difficilmente potrà rispondersi. Il Galli aveva cantato vittoria troppo presto e a questo punto non ci resta che lasciare il commento al re del pollaio. Il tacchino del giornalismo italico. Che figura di merda!